Ciao! Sono Virginia dei pasticciotti.it e oggi impacchetteremo dei regali di Natale. Servici! Ti servono solo carta da pacchi, cartoncini colorati, nastrini, colla, forbici e un pennarello nero. Per prima cosa impacchetta il tuo regalo. Ricava dal cartoncino bianco due cerchietti della stessa misura e incollali nella parte superiore del pacchetto. Quindi dal cartoncino rosso ricava il nasone rosso di Rudolf, la famosa renna di Babbo Natale, e incollala al centro, sotto i cartoncini bianchi. Ora con il pennarello nero disegna gli occhi, le sopracciglia e la bocca del nostro pacco renna. Ed ecco le corna, ben ramificate, che abbiamo ricavato dal cartoncino nero e abbiamo incollato nei due angoli superiori del pacchetto. Mancano solo le orecchie. Ritaglia dalla carta da pacchi due sagome fatte in questo modo. Piegale a metà, fissandole con un po' di colla, quindi attaccale sotto alle corna, di fianco agli occhi. Infine, lega attorno alla parte inferiore del pacco un bel nastro verde e annodalo al centro, praticando un bel fiocco. Eccomi amici, sono Rudolf, pronto da consegnare sotto forma di pacchetto regalo natalizio. Sono bello, vero? E mentre Rudolf ci guarda incuriosito, noi impacchettiamo un altro regalo, dandogli la forma di un altro simpatico animaletto. Dal cartoncino bianco ricava un cerchio e incollalo al centro del pacco, un po' sopra la metà. Quindi disegna il muso e gli occhietti con il pennarello nero. Poi ricava due cerchietti dal cartoncino rosa. Saranno le guanciotte dell'orso che incollerai ai lati del muso. Dalla carta da pacchi ritaglia quattro forme uguali, che saranno le orecchie e le zampette dell'orso, e che incollerai rispettivamente negli angoli superiori del pacco e ai lati. Infine, annoda un bel nastro rosso sotto al musetto del nostro pacchetto orsacchiotto, e... voilà! Ecco un altro aiutante di Babbo Natale, pronto a recapitare regali sotto i vostri alberi. Rudolf e Orsetto saranno lieti di farvi compagnia sotto forma di pacchi regalo, che aglieteranno le vostre feste e quelle dei vostri amici. Buon Natale a tutti voi! Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare un mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso Iscriviti e sulla campanella di fianco. Grazie a tutti!